Buona la prima si usa a dire in questi casi, un motto di certo banale ma che meglio si adatta nel descrivere il vittorioso esordio dei Mad Bulls nel campionato di terza divisione CIF9 di football americano. Alla Malzichi Apulini, i torelli capitanati da coach Ugo Calò, come da pronostico, superano senza troppa fatica gli Akei Crotone al termine di una partita nella quale la compagine Barlettana ha manifestato in lungo e in largo una letta superiorità rispetto alla pur volenterosa compagine calabrese. Comunque incontravamo una squadra che l'anno scorso è arrivata ai playoff, è una buona squadra, è allenata bene, quest'anno anche hanno il coach americano, quindi insomma è una squadra che sta crescendo e per noi era importante, importantissimo vedere a che punto eravamo con la preparazione, estremamente soddisfatto del comportamento della squadra, di come abbiamo giocato, di come abbiamo gestito la partita. Il principale motivo di interesse di questa gara era l'esordio con i Mad Bulls del fortissimo Danilo Bonaparte, il quale, come facilmente intuibile alla vigilia, non ha di certo tradito le attese. L'impressione non può che essere positiva, mi sono divertito tantissimo, come da aspettativa c'è stato un pubblico e dei compagni molto calorosi, nel bene e nel male, quindi di questo sono molto contento. Il running back Salentino è di fatti stato autore oltre che di due touchdown di alcune corse devastanti che hanno più e più volte messo in grave crisi la linea difensiva degli Akei. Non potevamo iniziare meglio di così, è un ottimo risultato per essere la prima di campionato. Ovviamente me compreso devo ancora trovare tantissimo timing con il quarterback, con la linea, però piano piano riusciremo ad arrivare in fondo al campionato con tutti gli schemi rodati. Quindi siamo fiduciosi in questo e ci crediamo tantissimo. Durante la seconda parte di gara da segnalare vi è la seconda meta di giornata realizzata ancora su Corsa da Bonaparte, alla quale fa seguito l'errore sul tentativo di field goal da parte di Cannarozzo, il quale si fa respingere il tiro dello special team degli Akei. Di lì a fine partita i Bad Bulls riescono abbastanza agevolmente a controllare i volenterosi ma sterili tentativi di reazione da parte dei calabresi. Termina così 36-0 questo primo impegno stagionale dei Torimatti, un ottimo viatico per una stagione dove la squadra del presidente Marzocca pare aver già chiare le proprie ambizioni di vittoria finale. Grazie.